Ciao ragazzi e bentornati sul canale di IronManager, bene come avete visto il 15 di febbraio sul mio blog IronManager.it e sulla pagina Facebook lancerò la nuova edizione di Filetto, il programma completo per l'aumento della massa muscolare e della ricomposizione corporea. Il programma anche quest'anno sarà completamente gratuito e quindi scaricabile il 15 di febbraio sul mio blog IronManager.it. Disponibile ancora una volta nella versione sia uomo che donna in due libri distinti e poi dopo l'uscita l'anno scorso di Filetto Fase 1, quest'anno in realtà ho voluto riscrivere un po' tutto dall'inizio, sono particolarmente pignolo, ho voluto infatti aggiungere ed inserire alcune strategie ed accorgimenti sull'allenamento che ritengo essenziali per lo sviluppo muscolare. Quindi il nuovo Filetto si suddivide ora in due fasi, Filetto Fase 1 Revisited, che è la versione di Filetto dell'anno scorso ampiamente rivisitata, e il nuovissimo Filetto Fase 2. Si tratta quindi di 30 settimane di allenamento suddivise in 7 mesocicli, con 3 settimane di progressione e una settimana di scarico attivo in ogni mesociclo. Ho inserito anche numerosi Challenge Day o giorni della sfida, mini test regolari ogni due settimane per darvi la possibilità di testare i vostri progressi e mantenere quindi alta la motivazione durante l'intero programma, durante le intere 30 settimane. Ho inserito ancora schede dettagliate degli esercizi con traduzioni, note di esecuzione e anche link per i tutorial online. E come al solito ho inserito di nuovo anche la parte delle linee guida alimentari per il periodo di costruzione muscolare, secondo i principi dell'approccio flessibile e sostenibile alla dieta che vado predicando da alcuni anni. Ho inserito anche la parte dell'integrazione, suggerimenti nella fase di massa, quindi pre-workout, post-workout, e anche la mia top 5 degli integratori per la salute. Ci sono centinaia di esempi pratici, aneddoti ed esperienti personali con il programma che ho testato io stesso per voi a fine dell'anno scorso. Quindi, come sappiamo, la teoria è bella ed affascinante, ma se non c'è la messa in pratica in palestra e sul palco di gara, si finisce solo per fare la figura dei saputelli, dei secchi saputelli che vivono dietro una tastiera. Quindi ragazzi, mi raccomando, è cominciato il Contro la Rovescia, sintonizzatevi lunedì sera 15 febbraio su IronManager.it per scaricare la vostra versione gratuita di Filetto, programma per la costruzione muscolare e la ricomposizione corporea. E mi raccomando, stay strong! Grazie a tutti!